Rubano in un'abitazione di Monastier, scappano con l'auto della proprietaria di casa, vanno a bere e fanno acquisti con le carte di credito rubate, note di follia per due diciassettenni individuati dai carabinieri. Un giovanissimo ruba dalla cassa di una macelleria di Conegliano, ma il titolare lo sorprende e lo insegue col coltello, la scena ripresa dalla telecamera del negozio, gesto istintivo racconta l'uomo, serve più sicurezza, pirati informatici russi rivendicano nel dark web di aver sottratto al gruppo Benetton 3 milioni di file, la minaccia li renderemo pubblici, l'azienda avvia una verifica ma nessuna operatività è stata compromessa, per 6 anni ha abusato della nipote che all'inizio delle violenze aveva appena 11 anni, ha treviso il processo nei confronti di un operaio della Castellana, la vittima ha raccontato il suo incubo, spari in acqua e aria contro la mare Ionio, la nave dell'ONG veneziana mediterranea che stava recuperando dei naufraghi, in acqua internazionale a largo delle coste libiche, il capo missione è il trevisiano Danny Castiglione. In missione a Taiwan per il comune di Asolo, il sindaco Migliorini si è trovato nell'isola asiatica proprio nelle ore del disastroso terremoto, le rassicurazioni sui social, sto bene, elezioni, centrodestra spaccato, anche a Valdobiadene scende in campo Martina Bertelli, assessore uscente quota Fratelli d'Italia, ma il sindaco Fregonese conferma di volersi presentare per il terzo mandato, si è spento a 86 anni, 4 mesi dopo la moglie Luciana, Luigi, Gigi Toscano, per tutti Gigi Azalea, cameriere dei vipi, ideatore della festa della Azalea nella sua casa di via Mandruzzato, a Treviso, 7 aprile del 44, domenica agli 80 anni del bombardamento di Treviso su Antenna 3 dalle 12, in diretta alle cerimonie in ricordo di quel tragico venerdì santo che culmineranno nel sorvolo delle frecce tricolori. Buonasera, eccoci in diretta edizione di Treviso dei nostri telegiornali, tanta cronaca lo avete sentito dai titoli, allora cominciamo dall'episodio eclatante che si è verificato a Monastier di Treviso, protagonisti due diciassettenni che hanno vissuto davvero una notte di follia, prima hanno rubato in un'abitazione, sono scappati con l'auto della padrone di casa, sono andati a bere e a fare acquisti con le carte di credito rubate, ma non l'hanno fatta franca. Hanno forzato la porta e sono entrati nel cuore della notte nella casa di una donna Monastier ed hanno rubato la borsa che conteneva carte di pagamento e le chiavi dell'auto. Come due criminali di professione, i due ladri, entrambi diciassettenni, sono scappati a bordo della vettura, ovviamente vista l'età nessuno dei due aveva la patente ed infatti dopo qualche chilometro, sono usciti di strada finendo in un fossato. Ma la notte brava non è finita qui. Usciti dall'auto, i due minori sono andati in un locale dove utilizzando la carta di credito rubata hanno effettuato delle consumazioni e diverse giocate. La mattina successiva, sempre utilizzando la post-pay della donna derubata, hanno acquistato online una PlayStation. I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 febbraio scorsi. Dopo la denuncia della donna sono scattate le indagini dei carabinieri che, seguendo la traccia dei pagamenti, sono riusciti a risalire agli esercizi commerciali dove i ragazzi avevano utilizzato le carte rubate. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali, i militari hanno identificato e denunciato i due giovani, già protagonisti in passato di atti vandalici. Un episodio che riaccende i riflettori sul disagio giovanile e sul fenomeno delle baby gang con l'aggravante che, in questo caso, i due minori si sono introdotti con effrazione in un'abitazione privata e sono fuggiti con l'auto rubata, uscendo di strada, ma sarebbe potuto succedere di peggio. Ferma la condanna della sindaca, Paola Moro, che si rivolge anche alle famiglie. Noi stiamo lavorando moltissimo sulle politiche giovanili, sull'educazione, sui progetti, stiamo mettendo anche parecchie risorse, però qui chiaramente siamo oltre, ecco, e qui l'appello va fatto anche alle famiglie. Anche una sana, come dire, un sano contenimento, un sano controllo di dove vanno, perché questi ragazzi minori erano fuori a ore, diciamo, nelle prime ore del mattino, insomma, dopo essere stati fuori tutta la notte. Io mi chiedo, insomma, le famiglie se riescono a controllare questi atteggiamenti, questi comportamenti, già si fa un certo tipo di lavoro. Queste non sono ragazzate, sono fatti gravissimi e vanno repressi. La monastiera Conegliano, dove c'è stato l'ennesimo furto nella centralissima via Cavour, un ragazzo, anche in questo caso, ha rubato dalla cassa di una macelleria ed è scappato. Il titolare lo ha sorpreso, l'ha inseguito, brandendo un coltello. Gesto istintivo, serve più sicurezza, ci ha detto. Martedì 2 aprile, ore 18. Un giovane entra nella centralissima macelleria alle mannaie di Conegliano, capuccio in testa e mani in tasca. Certo di non essere visto, infila le mani nella cassa per rubare il denaro e scappare con il bottino, ma non sa che il titolare è a pochi passi. Lo vede e lo insegue con il coltello fino alla strada. Il video di sorveglianza racconta in pochi secondi la scena. Ho sentito il rumorino della cassa, sono venuto davanti di corsa, visto dai monitor dietro che ho, sono venuto davanti di corsa con quello che è successo, tutto è successo velocemente e mi è capitato un coltello sotto mano. Fortunatamente è andata bene che lui è riuscito a scappare. Impegnato nella pulizia dei locali nel retro, visto la vicina ora di chiusura, uno sguardo distratto al monitor delle telecamere di sicurezza e la sorpresa di vedere il ragazzo, molto probabilmente minorenne, rubare i soldi, circa 40 euro. Una reazione spontanea, correre e salvare quello che è mio. È l'ennesimo furto nella zona a poche settimane di distanza. Il ragazzo in questione, notato da una commerciante della zona poco prima di commettere il furto. Mentre attraversavo la strada per prendere la mia macchina, lui mi è passato davanti e mi ha guardato in un modo stranissimo, tant'è vero che mio marito è uscito fuori e sicuro se avevo avuto la borsa non l'avrei avuta a tracolla bene, l'avrei avuta così sicuro l'avrebbe portata via perché ho visto proprio uno sguardo in lui e poi nella frazione del secondo non abbiamo capito niente perché lui poi è andato qua appunto dalla macelleria. La signora che insieme al marito gestisce un phone center nella via adiacente alla macelleria, anche lei vittima di un furto avvenuto a notte fonda circa 15 giorni fa. Al mio negozio sono entrati spaccando la, vabbè, aprendo la seranda, spaccando la vetrina. È entrato dentro alla casa, ha preso tutto il fondo casa che per fortuna era, sì, poca roba sulle 120 euro. Fatti che allarmano non poco i commercianti della zona, che lamentano degrado e episodi di micro criminalità crescenti. Chiediamo solo di prendere, venire a giù il lavoro, lavorare in santa pazza e non avere anche il pensiero di dire oggi chi entra. Si tratta solo di riuscire ad avere una presenza più capillare, non dico solo delle forze dell'ordine perché stanno facendo tutto il possibile, ma anche il fatto che stiamo installando sempre più telecamere. Adesso abbiamo dotato la polizia locale anche di Taser. Il gruppo Benetton sotto attacco hacker. Questa mattina il gruppo di pirati informatici denominato Hunters International, i cui vertici operativi risultano in Russia e Nigeria, ha reso noto sul proprio blog nel dark web di aver sottratto oltre 3 milioni di file dalla banca dati del gruppo trevigiano per un totale di 433 GB contemporaneamente, ha anche avviato un conto alla rovescia annunciando che entro oggi avrebbe iniziato a rendere pubblici una parte di essi, 33,8 MB pari solo a 10 file. Non è ancora chiaro di che tipo di dati si tratti e l'azienda al momento conferma solo di aver avviato delle verifiche, ma che l'operatività del gruppo non è al momento stata compromessa in alcun modo. Dal PNRR ai crediti per le imprese, maxifrode in Europa scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia, c'è stato un arresto, una misura cautelare applicata anche nel trevigiano, raffica di sequestri. Sentiamo. 24 misure cautelari di cui 8 in carcere, 14 ai domiciliari, 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Un sequestro preventivo di 600 milioni di euro. È l'esito dell'indagine avviata a ottobre 2022 che ha permesso alla Guardia di Finanza di Venezia di smantellare una maxifrode europea sui fondi PNRR partendo da uno screening locale. Dovendo come missione istituzionale andare a vigilare su come venivano spese queste importanti risorse per il Paese, le attività che hanno già state messe a terra, cioè già finanziate, erano dei progetti di finanziamenti, dei crediti per le imprese, in particolare piccole e medie imprese. Ci siamo accorti, appunto come faceva c'era un comandante, di questa ricorrenza. Alla fine sono emersi, incrociando le banche dati, due società che avevano bilanci floridi a fronte di dichiarazioni fiscali non presentate e a fronte soprattutto di fatture mai emesse. In Italia oltre 150 finanzieri hanno eseguito perquisizioni in otto regioni, tra cui Veneto e Friuli, Venezia e Giulia. Qui tre agli arresti domiciliari, uno già li scontava per altre questioni. Nella nostra regione invece sette gli arresti. Uno a Belluno, uno a Treviso, quattro Verona, di cui due i capi arrestati a Bratislava, uno ai domiciliari, uno in carcere, uno di Rovigo, arrestato a Brescia, interdittiva per un commercialista di Jesolo. Sono accusati di vari reati, frode fiscale, riciclaggio, banca rotta, veri e propri imprenditori della frode. Imprenditori non nel senso classico, perché non c'è nessuna impresa sottostante, ma persone strutturate in maniera sistematica, per quello che abbiamo visto fino ad ora, a ottenere finanziamenti pubblici. I soldi ricavati finivano in gran parte all'estero in acquisto di mobili, automobili, gioielli, orologi, criptovalute e viaggi. Una rete internazionale di prestanome, aziende fittizie 74, quella in provincia di Venezia, cui si è arrivati anche grazie a un lavoro di sinergia con Eppo, la Procura europea, insieme a forze di polizia slovacche, rumene e austriache. E' importante perché evidenzia il ruolo importante della Procura europea, che è un organismo giudiziario di recente Costituzione, nasce e opera da giugno 2021, si occupa di tutelare gli interessi economico-finanziari dell'intera Unione europea. Al suo mandato proprio nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, cioè nel verificare che il bilancio dell'Unione europea riceva correttamente le entrate che deve ricevere e che i soldi che l'Unione europea distribuisce siano spesi correttamente. Quindi le indagini di Eppo sono focalizzate specificamente su questi aspetti e in Italia ovviamente un partner privilegiato delle indagini di Eppo è la Guardia di Finanza, che è un tipo di polizia finanziaria, direi unica in Europa e che, insomma, posso dire tutta l'Europa ammira e ci invidia. Torniamo alla strage del bus di Mestre adesso perché è salito a 22 il bilancio delle vittime. Questa mattina a Padova è morta Rosalia Mendez Rodriguez, turista spagnola di 52 anni, a darne comunicazione. È stato lo stesso presidente della regione, Luca Zaia. Una signora che ha lottato questi sei mesi, ha lottato veramente nel centro grandi astugnati di Padova, seguita amorevolmente da suo marito, ma purtroppo non ce l'ha fatta. E quindi le mie condoglianze vanno al marito e ai suoi familiari e il pensiero va a tutte le altre 21 vittime che sono morte in quella tragedia. Se n'è andata dopo quasi sei mesi di sofferenze, Rosalia Rodriguez Mendez, ufficialmente la 22esima vittima della strage del bus di Mestre, è stato lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, a darne comunicazione nella tarda mattinata, tratteggiandone anche un ricordo. Poetessa perché scriveva poesie, si occupava della cultura delle Asturie. Rosalia, 52 anni, era tra i 15 passeggeri rimasti gravemente feriti dopo il volo fatale dal cavalcavia della Vempa, quella tragica sera del 3 ottobre, alla guida del Pullman, il quarantenne trevigiano Alberto Rizzotto. Con la 52enne c'era anche il fratello, che ha avuto però una sorte diversa e dimesso già a fine ottobre. Di quei feriti, dopo sei mesi, resta ancora ricoverata una bambina di quattro anni, il cui decorso nel reparto di chirurgia plastica risulta regolare. Si è fatto di tutto, abbiamo ancora una bimba, Anastasia, ricoverata da allora, una bimba che, insomma, l'incidente e soprattutto le ostioni hanno lasciato grandi segni nel 70% del suo corpo e lì si sta lavorando, però insomma, lì siamo molto più fiduciosi. La cronaca giudiziaria adesso è accusato di atti sessuali nei confronti della nipote che all'epoca dei fatti aveva solo 11 anni. Questa mattina in tribunale ha treviso la giovane vittima, ha ascoltato la testimonianza delle psicologhe di fronte ai giudici, lo zio. Una ragazzina di appena 11 anni, la cui vita è stata stravolta e distrutta dalla persona di cui si fidava, lo zio. L'uomo, operaio della Castellana, deve rispondere di atti sessuali con minorenne. Avrebbe, secondo l'accusa, preteso dalla nipote baci, carezze e l'avrebbe costretta a palpeggiamenti nelle parti intime e gesti di autoerotismo. In tribunale a Treviso la giovane ha già raccontato quella storia terribile che le ha distrutto la vita. Ora è stata la volta della psicologa e della psichiatra che operano in due centri per i disturbi alimentari. La ragazza, che oggi è maggiorenne, dopo gli abusi durati per ben sei anni, dal 2014 al 2020, aveva iniziato a non mangiare più fino a diventare anoressica. A portare alla luce questa devastante vicenda nel 2019 è stata proprio la giovane che frequentava l'ultimo anno della scuola superiore. Sotto la pressione di un incubo che non la lasciava più vivere, ha deciso di confidarsi con la psicologa della scuola. Se mangio vomito sono diventata così perché mio zio abusa di me. Da qui la denuncia che ha portato lo zio davanti ai giudici con l'accusa gravissima. Fra l'altro lo zio abitava proprio vicino alla nipote e approfittava dei momenti nei quali la vittima si trovava da sola per abusare di lei. Due famiglie distrutte, quella della ragazza e quella dello zio, che ha sempre respinto le accuse. Ma i magistrati hanno creduto alla giovane, sottoposta anche ad un incidente probatorio durante il quale ha raccontato particolari precisi e circostanziati. L'uomo è stato così rinviato a giudizio. L'udienza è stata aggiornata il 18 luglio prossimo, quando le parti saranno chiamate alla discussione. Poi ci sarà la sentenza. La mare Ionio, ora la nave della ONLUS veneziana mediterranea, è stata attaccata nel pomeriggio a largo delle coste libiche. Il drammatico racconto del trevigiano Danny Castiglione che lancia un appello urgente al governo. È il moglianese Danny Castiglione a raccontare il pomeriggio. È il moglianese Danny Castiglione di tensione vissuto a largo della costa libica, dove l'equipaggio della ONG mediterranea Seven Humans del veneziano Beppe Caccia è stato attaccato da una moto vedetta della sedicente guardia costiera libica. Spari in acqua e in aria dunque, che avrebbero creato il panico provocando la caduta in mare di alcune persone, e questo mentre i gommoni della ONG stavano soccorrendo dei migranti stipati in un barchino. L'imbarcazione di caccia battente bandiera italiana era assalpata mercoledì sera dal porto di Siracusa dirigendosi verso il Mediterraneo centrale per la sua sedicesima missione di monitoraggio e soccorso in mare. Castiglione, le chiedo soltanto, qual è il vostro appello al governo italiano? Il nostro appello al governo italiano è di fermare questi diabolici aguzzini. Questa non è una guardia costiera ufficiale, non ho mai visto assolutamente guardie costiere che frustano le persone e le buttano in acqua senza salvagenti. Non è possibile che il nostro governo, i complici ovviamente, l'Unione Europea continui a finanziare questi miliziani che torturano e basta le persone e le ammazzano. In missione a Taiwan invece, per conto del comune di Asolo, il sindaco Migliorini si è trovato nell'isola asiatica proprio nelle ore del sisma che l'ha colpita, causando finora una decina di vittime numerosissimi dispersi. Siamo resi conto che si è trattata di una scossa molto forte che si è sentita fino a Taipei e in tutta l'isola, ma anche ben oltre. In missione a Taiwan, come presidente della rete Città Slow International, che raggruppa nel mondo circa 300 città del buon vivere, Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, ha rassicurato tutti via social. La violenta scossa di terremoto che ha colpito l'isola, la più intensa degli ultimi 25 anni, magnitudo 7.4 della scala Richter, si è verificata proprio in concomitanza con la sua trasferta. In quel momento ero in aereo, in aeroporto, per cui non ho sentito nulla, se non che pochi minuti dopo in cui il velivolo è stato spento, è stata data la notizia che c'è stato un terremoto molto forte che si doveva un attimo attendere prima di far scendere i passeggeri dall'aereoplano. Migliorini si trova nel sud-est dell'isola, una cinquantina di chilometri dall'epicentro del sisma. Racconta di aver avuto modo di confrontarsi con i sindaci del territorio. È previsto anche l'incontro con la città di Folling, a circa 50 chilometri dall'epicentro del terremoto. Mi hanno riferito che la zona dell'epicentro si sono registrati ad oggi, fino a poco fa, 10 morti, hanno più di 1000 feriti ed oltre 40 dispersi. L'isola tuttavia sta reagendo. Lo stesso Migliorini ha sottolineato in un altro post l'efficienza dell'alta velocità ferroviaria malgrado il sisma. Nei prossimi giorni proseguirà comunque la nostra missione, anche incontrando altri sindaci ed autorità locali. Il rientro previsto è per la giornata di domenica. Ora veniamo alle elezioni. Elezioni amministrative. Centrodestra sempre più spaccato in vista del voto di giugno. A Valdobiadene presenta la sua candidatura a sindaco Martina Bertelle, assessore della giunta uscente in quota Fratelli d'Italia, ma il sindaco Luciano Fregonese tira dritto e conferma di volersi presentare per il terzo mandato. Non passa giorno senza uno strappo in casa centrodestra. Dopo quinto di treviso è la volta di Valdobiadene, dove Martina Bertelle, assessore della giunta uscente e vicepresidente della provincia, esponente di Fratelli d'Italia, annuncia la candidatura a sindaco con una formazione civica. Lo fa a inizio pomeriggio attraverso una nota, ringraziando l'uscente Luciano Fregonese per il suo incoraggiamento. Mi auguro, scrive Bertelle, che il suo sostegno e consiglio non vengano meno nei prossimi mesi. Dichiarazioni al miele che sbattono contro la realtà. Il primo cittadino infatti tira dritto. Oggi confermo la mia candidatura per un prossimo mandato in continuità con questi dieci anni fatti all'interno di nuova civica Valdobiadene. Diciamo che davvero abbiamo cercato di tenere unito il gruppo facendo anche delle proposte per il proseguo assieme. Così non è stato, mi spiace, ma si va avanti, si guarda avanti. Fregonese a sua volta è un civico di centrodestra, nessuna tessera di partito in tasca, nei suoi due precedenti mandati ha sempre governato con l'appoggio esterno di tutti i partiti della coalizione. È chiaro che la discesa in campo della Meloniana Bertelle spariglia le carte in tavola. Anche Lega e Forza Italia dovranno prendere una posizione. L'uscente attende una risposta dalle rispettive segreterie e intanto si vota il civismo. Adesso si apre un nuovo scenario. Ho sempre cercato di amministrare in maniera civica per altro con ottimi confronti con le minoranze davvero costruttivi, con i quali continueranno a esserci. Valdobiadene, nuovo terreno di scontro, ma certo non il solo. A Preganziol non si è ancora trovata la quadra. Fratelli d'Italia con Claudio Borgia ribadisce il suo diktat per Gianni Cestaro a fronte dell'opzione forzista per Dino Vecchiato. Un chiarimento è atteso per le prossime ore. Non si esclude nulla, nemmeno la corsa in solitaria. Con Claudio ne parleremo anche domani. Penso che si possano risolvere sempre le situazioni. Se ciò non sarà possibile ci si rivedrà al secondo turno con molta serenità. Torniamo alla cronaca adesso. Due aggressioni e una rissa. Cinque giorni di chiusura per la sala anima dell'odissea di Spresiano, disposti dal questore di Treviso. L'amarezza del titolare abbiamo sempre fatto il massimo per garantire la sicurezza e collaborato con le forze dell'ordine. A dicembre una lite tra ragazzine nel parcheggio finita con il furto di una borsetta e poi un'aggressione ad una festa studentesca con un giovane spintonato e derubato del cellulare. A febbraio una rissa tra avventori che ha coinvolto un cliente finito al pronto soccorso con una ferita al naso. Dopo questi episodi dei mesi passati il questore di Treviso Manuela De Bernardin ha disposto la chiusura per cinque giorni da martedì scorso a sabato della sala anima club dell'odissea di Spresiano. Amareggiato il titolare Giannino Venerandi. Siamo intervenuti subito ed abbiamo collaborato con le forze dell'ordine per l'identificazione dei responsabili. Innanzitutto riguarda appunto una delle otto sale interne dell'odissea. L'odissea rimane regolarmente aperta. Noi abbiamo sempre ottemperato tutte quante le nostre norme sulla sicurezza, prevedendo un controllo molto preciso all'ingresso con anche l'uso dei mecta detector, selezionando molto la clientela. Dopodiché premetto che noi abbiamo anche firmato un protocollo d'intesa in prefettura con le forze dell'ordine. È un protocollo emanato dal Ministero dell'Interno che prevede appunto una massima collaborazione tra i gestori e le forze dell'ordine. Questo è stato fatto, questo sarà sempre fatto. Episodio commentato anche dal sindaco di Spresiano Marco della Pietra. Non discuto il provvedimento della questura ma intendo ribadire il buon nome del locale che ha ospitato generazioni di giovani. Non penso che questa misura da sola possa servire ad arginare il fenomeno. Bisogna anche punire, ha detto della Pietra, chi si rende responsabile di questi atti. Noi adesso andiamo per qualche istante in pubblicità. Ritorniamo tra poco con Altra Cronaca. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Torniamo in tribunale. Minacce e vessazioni nei confronti della figlia. Un 67enne è stato rinviato a giudizio per stalking. Una vicenda fatta di vessazioni attiminatori nei confronti della figlia. È questa l'accusa mossa dalla donna al padre, 67enne, che è stato rinviato a giudizio per stalking. Secondo l'accusa, l'uomo, dopo la morte della moglie che si sarebbe tolta la vita, ha iniziato ad avere un atteggiamento persecutorio. La vittima, esasperata dalla situazione e temendo per la propria vita e quella del compagno, ha deciso di sporgere denuncia. Una vicenda sulla quale si farà ampiamente luce nel corso delle prossime udienze. Alla base di questa situazione ci sarebbero litigi continui fra i due. Secondo quanto riferito dalla donna, il padre addirittura si appostava a giorni e notte fuori dalla sua abitazione, arrivando a danneggiare i beni personali e aziendali. La figlia, pietrificata dalla paura, si è rivolta alle autorità. L'uomo comparirà davanti ai magistrati il 13 maggio 2025. E dovrà rispondere di rapina il 21enne che, dopo aver rubato lo zaino e il cellulare all'ex fidanzata, ha reagito con violenza ai tentativi della ragazza di riaverli indietro. I fatti sono avvenuti nel 2022 a Mogliano Veneto. Una discussione tra i due, conclusasi col giovane che ha strappato lo zaino alla ragazza, poi è fuggito. Rincorso dalla vittima l'avrebbe colpita a schiaffi. Per lui è scattata la denuncia. Oggi in tribunale a Treviso il giovane è comparso davanti ai magistrati, ma l'udienza è stata rinviata a data da destinarsi. Cercano di scappare a un controllo dei carabinieri a San Giorgio in Bosco. Siamo nell'alta Padovana, fermati e trovati in possesso di sostanza stupefacente. Un 25enne di Castelfranco è stato arrestato. Hanno cercato di dribblare la pattuglia dei carabinieri impegnati in un controllo lungo la strada regionale 47 Valsugana a San Giorgio in Bosco. La manovra azzardata e l'alta velocità hanno insospettito i militari che hanno fermato l'auto di grossa cilindrata a bordo tra ragazzi che sono parsi fin da subito molto agitati. I carabinieri li hanno così perquisiti. Un 25enne di Castelfranco Veneto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio perché nella tasca del giubbotto nascondeva 54 grammi di cocaina. Denunciata la 24enne marocchina con lui che aveva 2 grammi di cocaina e il materiale per il confezionamento mentre il conducente del mezzo non aveva nulla. Ieri vi abbiamo sottoposto la protesta dei commercianti di Roncade e oggi la risposta dell'amministrazione comunale alle polemiche sulla nuova pista ciclabile di Via Roma. I lavori sono ancora in corso, alla fine saranno salvaguardati ciclisti, parcheggi e plateatici, dicono. Sono ancora lavori in corso e quindi finché non si vede come esce il risultato sono assolutamente comprensibili tutti i timori e le osservazioni che sono state presentate. Aspettate che siano finiti i lavori prima di criticare, così l'amministrazione comunale di Roncade dopo la protesta dei commercianti di Via Roma sulla nuova pista ciclabile. Un progetto cofinanziato dalla regione che si è classificato terzo tra i 178 presentati per la messa in sicurezza dei ciclisti. Il che è nella logica proprio del miglioramento della sicurezza, non l'esatto contrario, e della miglioria in generale per una fruizione sia in termini di mobilità lenta per chi va a piedi o in bicicletta e sia in termini di possibilità di parcheggio che attualmente non sono segnati ma che chiaramente ci saranno. I parcheggi vicino ai negozi, tranquillizza la sindaca, ci saranno e saranno più sicuri rispetto a quelli del passato a spina di pesce e spesso troppo corti per le auto d'oggi. Il nuovo progetto tiene conto inoltre della richiesta degli stessi esercenti di continuare a disporre dei plateatici che in epoca Covid erano stati installati proprio dove correva la vecchia pista ciclabile. La pista ciclabile sarà divisa in due corsie ciclabili lungo il senso di marcia principale. Come prevede il codice della strada sarà possibile parcheggiare ai lati per cui praticamente in corrispondenza delle parti rivestite con il porfido, pavimentate in porfido e in linea sempre secondo le previsioni del codice della strada. Questo ovviamente porterà ad una riduzione di numero di poco più di 20 unità ai parcheggi che erano presenti prima, però appunto viene fatto tutto in modo tale da aumentare la sicurezza e dare soprattutto anche la possibilità di installare i plateatici in caso anche richiedendo di sacrificare ulteriori parcheggi. Si è spento nella notte, 86 anni, 4 mesi, pensate dopo la moglie Luciana, Luigi, Gigi Toscana, Gigi Azzalea, cameriere dei VIP, ideatore della festa dell'Azzalea nella sua casa di via Mandruzzato. Mi sono trovato a visitare una mostra di fiori, ho visto questa bella pianta e mi sono innamorato e ho cominciato un po' alla volta a comprarmi una, due, tre e sono arrivato a 160 piante. Così raccontava ai microfoni di Antenna 3 Luigi Toscana nel 2008 e proprio in questo inizio di primavera, quando sbocciano le sue amate Azzalee, si è spento all'età di 86 anni, 4 mesi dopo la moglie Luciana, con la quale era stato sposato per 60 anni. Gigi Toscampo e Gigi Azzalea, cameriere di papi, presidenti, attori e sportivi, vulcanico, con un grande amore per la gente, lo stare insieme, elogiato da cuochi e famosi fumettisti, ideatore di quella festa dell'Azzalea per la quale apriva la sua casa di via Mandruzzato a Treviso. Originario di Santa Maria del Rovere, da sempre legato al quartiere di Santa Bona, aveva venduto bibite allo stadio Tenni quando ad allenare il Treviso era il paron Nereo Rocco. Aveva lavorato in alcuni dei migliori ristoranti della marca e del Veneto, vissuto la stagione dei politici simbolo della Prima Repubblica e dei grandi attori del cinema italiano. Conservava gelosamente la foto con Papa Giovanni Paolo II o quella con il presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi, la moglie Franca, e il sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini. A lungo dipendente della provincia, con la pensione si era dedicato con passione alle Azzalee, complice il figlio Fabio, attuale gestore della pizzeria Ciaro de Luna di Arcade. Così nel 2012. L'importante è che abbia tanta torba, dato l'acqua che lei ha bisogno, e sarebbe bene tenerle all'ombra. Questi qui sono un'eccezione del sole, perché io ci metto gli ombroni per proteggerli nei momenti più caldi. I funerali di Gigi Toscana saranno celebrati martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Bona Nuova. Veniamo alla sezione Ana di Conegliano, che assieme all'amministrazione comunale ha ufficialmente presentato questa mattina il tanto atteso appuntamento col centenario della sezione e il raduno triveneto del 2025. Nello sfondo vedete il castello di Conegliano, città nostra, città per antonomasia alpina, e in primo piano questo cento dove simboleggia gli zeri, simboleggiano l'infinito, dove noi alpini vogliamo esprimere ci siamo, eravamo, ci siamo e ci saremo. Svelato il logo del centenario della sezione alpini di Conegliano, 30 gruppi, oltre 5.000 iscritti, 100 anni di storia. È iniziato in città il conto alla rovescia in attesa di giugno 2025. Dal 13 al 15 la città ospiterà l'adunata triveneta in occasione del centenario della fondazione della sezione e che prenderà il passaggio della stecca da Bibione. Il comitato è già partito, sta già lavorando, adesso come da oggi che abbiamo presentato anche il logo, i lavori partono alla grande. Tanti gli eventi in programma aspettando il 2025. Da domani, diciamo, fino a giugno 2025 ci saranno tutti gli eventi di Aspettando il centenario. Abbiamo voluto dividere questi eventi per fare in modo di coinvolgere tutti i gruppi, componenti, di 30 gruppi, componenti della sezione di Conegliano e in parte anche i 17 comuni. Degli eventi ricordando l'impegno che nel territorio gli alpini hanno sempre dato. Noi siamo uomini di poche parole ma di tanti fatti e questi fatti li vogliamo sicuramente ricordare in questi cent'anni. Appuntamenti al via già da questo fine settimana. Un cammino lungo un anno che culminerà con l'adunata triveneta per cui la sezione di Conegliano per la città ha in servo una sorpresa che riguarderà la scalinata a loro dedicata. Ma ancora non è tempo di svelarla. E ora andiamo a un altro appuntamento importante. 7 aprile 1944, 7 aprile 2024. Domenica agli 80 anni del bombardamento di Treviso. Antena 3 trasmetterà in diretta da mezzogiorno le cerimonie in ricordo di quel tragico venerdì santo che culmineranno nel sorvolo delle frecce tricolori. La deposizione della corona dall'oro alla lapide di fronte allo scalone di Palazzo dei Trecento, i rintocchi della campana della Torre Civica, infine il sorvolo delle frecce tricolori. Le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario del bombardamento di Treviso, quel tragico venerdì santo del 1944, verranno trasmesse in diretta da Antena 3 domenica 7 aprile nel corso di prima edizione in onda a partire dalle 12. Trasmissione per gran parte incentrata sul ricordo, la pioggia di bombe lanciate sulla città dagli aerei alleati, le 1470 vittime civili di quel giorno, una contabilità salita a 1600 con le successive incursioni proseguite fino al marzo del 1945. 123 i bambini che persero la vita, ricordati nel tempietto di Via della Madonnetta a Santa Maria del Rovere. Alle 12.15 una corona dall'oro sarà deposta dalle autorità ai piedi della lapide dedicata alle vittime civili di guerra. Dalle 12.45, in attesa dei rintocchi, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Coletti si alterneranno in letture e musiche ad assistervi tra gli altri una rappresentanza di alunni di tutti gli istituti comprensivi della città. Dalle 13.05 i rintocchi della campana della Torre Civica scandiranno i sette lunghissimi devastanti minuti del bombardamento quando su Treviso scesero 2.000 ordigni. Al termine, alle 13.13, il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori, momenti di grande intensità per chi quel giorno c'era e per chi è venuto dopo e per chi ha lavorato per restituire alle future generazioni la città di oggi. E adesso andiamo alle notizie che arrivano dal bellunese. La valanga Misurina in primo piano, la sezione del CAI di Fornia Voltri, organizzatrice dell'escursione ai cadini di Misurina di martedì scorso, è nella bufera a Cuse, vengono lanciate ai vertici del sodalizio per aver messo in pericolo la vita della comitiva di ragazzini portati in quota nonostante il bollettino valanghe segnalasse il pericolo 4, dubbi sulla dinamica dei soccorsi. Ai quotidiani locali Fabio Del Fabro, referente dell'attività giovanile del CAI di Fornia Voltri, ha dichiarato la vicenda sta prendendo una brutta piega. Sotterrati dai commenti poco edificanti dei social eppure dalle parole espresse in punta di penna dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, i componenti del sodalizio nel tardo pomeriggio di oggi si sono riuniti per fare il punto della situazione. Dopo la valanga di martedì ai cadini di Misurina, che per miracolo non si è tramutata in tragedia, oltre agli interrogativi, nelle ore immediatamente successive ai soccorsi ci sono insinuati dubbi perfino sulla fortuita quanto provvidenziale presenza di due militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo. È grazie a Cristiano Romanini e Enrico Tac, entrambi legati al movimento sportivo di biathlon di Fornia Voltri, che si è potuta salvare la quindicenne travolta dalla neve, trascinata per una sessantina di metri e sepolta da una coltre di 60 centimetri. Nel frattempo il secondo sci alpinista, travolto dalla neve e rimasto intrappolato dalla cintola in giù, riusciva a liberarsi grazie all'aiuto degli operatori, dei compagni di gita e degli strumenti di supporto in suo possesso. L'escursionista è stato soccorso dall'elicottero dell'aiuto alpino Lomites, è giunto in supporto dell'eliambulanza del suo En 118 di Pieve di Cadore, che ha recuperato con un verricello la quindicenne trasportata, riferiscono nella nota le fiamme gialle, in condizioni di ipotermia e con diverse ferite al San Martino di Belluno. Successivamente l'elicottero di Bolzano ha caricato a bordo due componenti della comitiva, fratello e sorella. L'uscita di sci alpinismo del 2 aprile era stata divulgata dal CAI di Forni a Voltri il 25 marzo scorso con un comunicato. La destinazione, si legge, sarebbe stata decisa in base alle condizioni di innevamento e al numero delle iscrizioni. Il gruppo di circa una decina di partecipanti, compresi gli accompagnatori, quella mattina ha raggiunto il parcheggio alla base dei cadini di Misurina. Il bollettino valanghe dell'Arpav indicava un pericolo di grado forte, tra i più elevati segnalati sin dall'avvio della stagione invernale. Perché si è deciso ugualmente di condurre in vetta la comitiva di ragazzi, tutti fra i 12 e i 17 anni di età? A questa e altre domande risponderà il direttivo del CAI di Forni a Voltri, intenzionato a fare chiarezza sulla vicenda. Oggi il capo della procura di Belluno ha riferito di non avere ricevuto alcuna documentazione sull'evento che a norma del codice di procedura penale in questo caso potrebbe essere stata raccolta di iniziativa dal personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza nella sua funzione di polizia giudiziaria. Parte il terzo ricorso al TAR contro il provvedimento della nuova variante urbanistica e la nuova approvazione del progetto dell'ex stazione ferroviaria di Cortina. Il comitato civico non molle aggiunge nuovi motivi di dissenso rispetto ai ricorsi presentati al TAR del Veneto nel mese di aprile e nel mese di giugno del 2022 relativi al medesimo progetto che era già a gara per un valore di 231 milioni di euro in scadenza il prossimo 15 aprile. Una lotta per salvare il bene pubblico dalla speculazione edilizia e dalla privatizzazione di una vasta area scrive il comitato in un comunicato col quale chiama a raccolta i cittadini mobilitati per una nuova raccolta firme da inoltrare al sindaco Lorenzi. E partiranno a settembre, dureranno tre mesi i lavori di aggiornamento del tracciato della pista olimpia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo che ospiterà le gare olimpiche di sci alpino femminile e le competizioni paralimpiche di sci alpino e giochi invernali del 2026. Stamattina si è svolta la conferenza dei servizi, decisoria convocata da Simico e alla quale hanno partecipato i rappresentanti e i referenti delle amministrazioni degli enti locali interessati. Per l'intervento sul tracciato, uno dei più belli apprezzati al mondo inaugurato in occasione delle Olimpiadi del 1956 sono stati stanziati 1.380.000 euro. Frattanto sembrano fermi al palo i lavori per la realizzazione della nuova pista da Bob a quasi due mesi dalla consegna del cantiere a meno di un anno dal collaudo. Per questo le associazioni ambientaliste dell'Alto Bellunese si ritroveranno il prossimo 13 aprile a Cortina per ribadire il no all'opera e all'assalto del territorio. Cura del verde cittadino, parliamo di questo adesso grazie a una collaborazione tra enti il personale del comune di Belluno potrà beneficiare di una maggiore e più specifica formazione. A volte basta una buona idea e poi le cose succedono quasi per caso è quello che è accaduto tra l'amministrazione comunale di Belluno e il centro consorzi dando la possibilità alla città di avere un domani un verde curato in maniera molto migliore. Abbiamo questo parco che è uno degli interventi che riguarda il SISUS logicamente le risorse sono sempre limitate con questa sinergia col consorzio noi offriamo il parco di Mussoi per poter fare degli interventi legati a questi giardinieri d'arte per curare le piante soprattutto interessante perché ci sono molte piante ad alto fusto. L'accordo è importante perché daremo la possibilità ad uno dei nostri dipendenti di fare questo corso diciamo di giardinaggio d'arte. Manutenzione del verde che quindi farà un salto di qualità e a beneficiarne almeno all'inizio sarà un luogo in particolare. Ci portiamo a casa diciamo un lavoro che tecnicamente dovevano fare sono 300 ore di lavoro appunto che verranno fatte al parco Villa Crizia, al parco di Mussoi e siamo ben contenti insomma di essere coinvolti direttamente proprio anche perché abbiamo un nostro dipendente in questo tipo di lavoro in questa cooperazione diciamo tra enti. Era l'ultimo servizio per questa sera vi ringrazio per essere stati con noi adesso come sempre le previsioni del tempo a voi tutti una buona serata arrivederci. Entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura Ben trovati al meteo rinforzo e consolidamento del promontorio di alta pressione bel tempo dunque e clima mite e gradevole il dettaglio di venerdì 5 aprile sul Veneto tanto sole cielo in prevalenza poco nuvoloso non si verificheranno precipitazioni sulla pianura e nelle valli prealpine al mattino saranno possibili nebbie locali temperature in aumento minime tra 7 e 11 gradi massime comprese tra 16 e 21 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui sarà soleggiato cielo da poco nuvoloso a variabile sarà possibile però una maggiore nuvolosità sull'alta pianura e sulla fascia prealpina temperature minime sui 6-12 gradi massime intorno ai 16-18 gradi infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove il contesto sarà del tutto simile dunque ampio soleggiamento salvo la presenza di locali nubi basse al mattino temperature minime sui 7 gradi massime intorno ai 21-22 all'incirca dal Meteo è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia Busti, tutori e protesi di arto personalizzati Ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato, soluzioni per star bene